netcon forum 2023 siamo con luca biancheri vicepresidente di g touch e commerce quali sono le caratteristiche indispensabili in un anno in una buona strategia ogni canale ciao roberta direi che ci troviamo in un momento in cui gli utenti e le aziende iniziano a essere sempre più consapevoli del dell'acquisto online quindi se da una parte gli utenti si aspettano determinate risposte da parte degli utenti le aziende devono adottarsi di alcuni strumenti sicuramente l'omnicanalità è un tema fondamentale imprescindibile ad oggi le aziende devono dotarsi sempre di più di esperienze fluide di acquisto tra il canale fisico e il canale digitale ricordiamoci che il 27 per cento degli utenti acquista già tramite esperienze ibride per cui il compito delle aziende è quello di dotarsi di esperienze fluide che permettano di passare dal mondo digitale al mondo fisico e viceversa nella maniera più fluida più fluida possibile e quindi sicuramente concentrarsi sull'esperienza utente è la chiave è il canale per fare questo ovviamente bisogna lavorare con i dati bisogna sfruttare i dati che ormai tutte le aziende hanno a disposizione in modo da poi poi utilizzarli per rendere effettivamente effettivamente prendere dei take out per rendere queste esperienze veramente efficaci e in che modo digitale aiuta le aziende a creare delle costume giorni a un canale per fare questo in digitale utilizziamo l'approccio del service design ovvero mettiamo intorno a un tavolo tutte le competenze necessarie per affrontare un progetto un processo di acquisto nel modo più efficace non è soltanto una questione tecnologica una questione di design ma è veramente intercettare tutti gli stakeholder e tutte le persone coinvolte in un processo di acquisto quindi attraverso un processo strategico di definizione del del design del servizio perché alla fine si tratta di questo cerchiamo di mettere in piedi dei processi che poi si trasformano in progetti tecnologici e di gestione quindi per noi un progetto e commerce è composto da tre fasi che sicuramente quello del service design e dell'experience design quindi progettare creare l'esperienza utente corretta sicuramente la fase di implementazione tecnologica che ad oggi è la chiave per poi mettere a terra e scaricare quello che è un processo e sicuramente tutta la parte di gestione dei touch point digitali fisici che siano il passaggio in cloud di dati app e software è diventato una step chiave nel processo di digital transformation del business in che modo digitaccio affianca le aziende in questo percorso digitaccio lavoriamo in modo veramente integrato su tre pillar che sono quelli di marketing tecnologia e commerce crediamo fortemente che le tre aree siano interconnesse tra loro che non esista un progetto di puro marketing senza la tecnologia o di commerce senza e marketing senza la tecnologia quindi crediamo che l'inter la connessione di questi tre ambiti sia veramente importante è la direzione che il mercato il mondo sta prendendo e sicuramente sicuramente va in questa direzione grazie grazie a te roberta